salve a tutti volevo invitare le persone che fossero a roma il 20 e il 21 di aprile ad incontrare me e maria grazia albanese i due incontri un seminario in due incontri che terremo a roma sul potere di guarigione delle fiabbe si intitola guarire con le fiabbe un incontro appunto in due giorni dove parleremo delle fiabbe dei loro contenuti spirituali degli esercizi delle meditazioni che si possono fare relativi a quelle parti costitutive dell'essere umano che le fiabbe ci raccontano come si muovono e come si elaborano dentro di noi e al tempo stesso mi mi farebbe piacere se le persone che seguono questo canale volessero venire a rompere il muro della virtualità potremmo magari stringerci la mano abbracciarci di persona quindi vi invito a roma il 20 e il 21 di aprile trovate tutte le informazioni in questa locandina che è pubblicata qui accanto a me a presto vi aspetto